siamo qua con il maestro del legacy del vintage del legant del vega del vega si signori cina biondo cosa è diventata molto più grande di me comunque ciao marchino ovviamente non è cina biondo è is that true hero è conosciuto anche come marco vassallo quando è al massimo poi poi ogni tanto è valvassore e a volte valvassino guarda quanto è bello sto mazzo marco guarda perché ho letto mille è giusto mille è un mazzo da best of one che si basa su di fork cacofonia e tascia loter va bene si è fatto una certa bella gente ne voglio vedere una va bene certo ne vuoi vedere una lo so lo sapevo che voleva vedere una questa è una lista che ho fatto ieri chiacchierando con l'ottimo arne arne e il cognome non riuscirò mai a pronunciarlo usci in bed usci in bed e avete partorito questa cosa lui ha iniziato a giocare mille io ero in chat si è iniziato a chiacchierare a parlare carta più carta meno io voglio io volevo giocarci il turno in più lui ha detto no mettiamoci un altro fork ci sono rimasto male però alla fine è venuta fuori sta merda e niente lui l'ha provato un po e l'ho provato un po e adesso vedrai cosa succede quando vai allora la cosa buffa è che la gente nella ladder best of one lo conosce come come archetipo e la maggior parte delle persone a terra granchio concedono ma bellissimo bellissimo e è bellissimo anche i server guarda per me è stato anche molto veloce in realtà il rest of one a anzi ma hanno cambiato tutto a quanto è che non apri arena un annetto buono ora funziona molto meglio guarda il server chat spam delmo server vedete è il momento perché voi non beccate i momenti giusti in cui si spammano le moto giuste il pistrelo delmo server l'hai vista delmo server si è molto più bella di twitch io il caricamento di arena certo è bellissimo ah ma proprio non funziona arena beh vabbè bello beh giusto sono contento in realtà rispetto a ma almeno non vediamo un mille va quasi tutto bene quando è così ah no proprio vaffanculo non funziona arena bellissimo non funziona alt f4 oppure non rientrare più è crashato a tutti f allora continuiamo a chiacchierare con marchino di legacy allora non possiamo nemmeno aprire goldfish è crashato tutto andiamo su twitter a guardare le magic e all'improvviso le puppe di amurant va bello lo seguiamo su twitter io sono affascinato da lei come come personaggio sono affascinato lei è la ferragni di internet vorrei essere io incredibile eh lo so quindi ti trai a legacy allora se se ogni tanto si vuole giocare a mtgo con marco che mi presta l'account e io gioco col suo e lui accanto e lui mi spiega volentieri io non me la faccio l'account posso anche lui spiegartelo guarda ti lascio i dati divertiti e vado via è crashata la proprietà in vellettore si tutti i siti sono scritto mtg tutti i siti e parlano di magic non funzionano infatti funziona arena perchè arena funziona mtg arena zone perchè arena non è magic incredibile niente ma è ancora un meme quindi arena non è magic è ancora un meme arena non è magic certo ok ok crack in company feliceo che il sabba la crack in company certo spam di demo crack in devono crack in love ricordatevi che ritorneremo più forti di prima ma nel frattempo punto schiamativo kraken potete entrare nel disco della crack in company dove ci fa si fanno i tavoli per dnd e queste cose qua archino questo è un ottimo contenuto questo secondo me è un ottimo contenuto è molto divertente io ho rifatto video del genere con tipo anche con jack che volevamo giocare non riuscivo alla fine diventavo un'intervista molto bello praticamente da voi parte tutto in un modo e poi finisci in un altro è sempre un si chiama intrattenimento si chiama intrattenimento si chiama saper improvvisare si chiama tenere il palco anche se si sente male l'ospite caro il mio e allora niente intervista pura e semplice mi dia anche la cam a sto punto è nudo o no è tutto va bene adesso sta parlando nel nulla sta parlando nel vacuo sta parlando dal rigno delle ombre sono nudo quando guado il delmo quindi mi sembra mi sembra al minimo mi sembra al minimo simpatico questo marcolino Marco è un grande Marco è un fratello Marco è un fratello un padre un cugino tutto io starei in generale comunque e io sono in generale vabbè in generale cosa succede entri e dici cose va bene è successo effettivamente beh non rischiamo non rischiamo ho fatto bene a dirmelo non rischiamo magari entra Alex e dice nella stanza segreta abbasso il no no appena appena Marchino mi da oh guarda che bello allora ti catturo ti catturo oh ho cambiato tutto sezione finetre sezione finetre oppate finetre sezione eccolo eccolo e esca andate quanto quanto è bello questo giocatore di legacy buonasera buonasera a tutti spero che non fai più delle cose vabbè peraltro bravo che abbiamo le ho anche il micopono da smr se vuoi bravo abbiamo le luci intonate ah bello bello devo metterlo un filo più forte tu puoi fare quello che vuoi ma tu eri molto più biondo l'ultima volta che ti ho visto ho anche molto più tinto ma in realtà sai che non ho più fatto un risultato da quando ho questi capelli eh ma è ovvio sei sansone esatto esatto solo che devono essere incredibilmente biondi i miei capelli se no perdi prendi cazzo comunque male ora l'unico biondo è cina biondo ecco ma se cina biondo si fa biondo io impazzisco se cina biondo si fa biondo io impazzisco proprio è il giorno più bello della mia vita chat spam cina biondo cina biondo la prima volta che ho visto cina biondo è stata una delusione sarò sincero cosa vuoi perché eh perché me l'aspettavo effettivamente biondo ho detto beh bellissimo vedo un cinese biondo è gigante bello perché è gigante invece ho realizzato di essere solo un razzistone va bene no no so so allora raccontaci allora raccontaci un po' di te allora se tu nasci nel lontano così lontano 99 nel non così non così lontano 99 a reggio emilia sei del 99 cosa sei del 99 sono del 99 io sei del 99 ti segue esatto padre svizzero e madre terrona non si può dire scusate non si può dire quindi sono anche extra comunitario come la mettiamo sei sei a metà vedete sei toscano oh no toscano no ti prego tutto tranne toscano se fai la media sei emiliano tra Napoli tra Napoli e la Svizzera e sono nato a Reggio Emilia ma vivo a Parma quindi mi odiano tutti quindi sei l'emblema del meme stereotipo che gli svizzeri hanno la R.Mosh sì assolutamente che bello è bellissima sta cosa sei sei uno stereotipo che vive sono molto peggio perché è tutto vero cioè quando mi dicono ma è vero che voi con la R.Mosh pensate con la R.Mosh sì è vero cioè nella mia testa c'è la R.Mosh davvero? dai? davvero? come la pronuncio io ce l'ho non è perché te pensi con la tua voce io penso con la mia voce la mia voce è la R.Mosh perché tu pensi con la voce di Troy McClure io non penso con una voce io non sento una voce nel mio cervello anche se effettivamente sì ogni tanto penso come Troy McClure esatto ciao sono il Delbo e scrivi pure mi ricorderete di me per mille che fa crashare arena scrivi pure la R.Mosh scrivi pure sì la metto minuscolo scrivo tutto il maiuscolo e poi metto la R minuscolo quindi nasci nel vicino 99 nella città di Reggio Emilia nasco Reggio Emilia ma vivo a Parma io ok si suba contro iro sullo spunto è incredibile questa cosa non doveva andare così oggi così vabbè è tutto esatto bello grazie Falcia ho iniziato a giocare a Magic nel non così lontano 2014 e poi mi sono dato direttamente ai formati Eternal praticamente da subito allora come hai scoperto Magic? sono passato al Modern e al Legacy come hai scoperto Magic? allora Magic l'ho scoperto nel modo in cui ogni ragazzetto della mia tavola lo può scoprire cioè stavo giocando a Yu-Gi-Oh ho detto ma sto gioco è una merda voglio iniziare a giocare a Magic non è vero succede sempre così io è incredibile all'ennesima stampa perché Yu-Gi-Oh come funziona a differenza di Magic per chi non lo sapesse le stampe la stampa del box nuovo spesso e volentieri è incredibilmente più forte del box vecchio e così via quindi tu devi rimanere sempre aggiornato a una certa ti rompi le palle e dici ok cambio gioco più o meno Yu-Gi-Oh perché non c'è i formati cioè non c'è un Eternal è tutto Eternal è solo Vintage praticamente Yu-Gi-Oh puoi giocare solo con solo quel formato lì cioè sì c'è il Sealed che è particolare però per il resto è come se fosse un Vintage sempre non c'è lo standard ah e quindi ah e quindi ti dici è un Vintage che però le espansioni che escano sono tutte sbroccate e quindi tutte le volte devi rifarti i mazzi esatto soprattutto perché l'edizione tu buildi il tuo mazzo con tutte le edizioni per esempio e prendi le carte migliori che ti interessano di più che vanno in combinazione invece le edizioni di Yu-Gi-Oh sono esce questa edizione c'è tutte le creature e mostro alla nera per esempio che funzionano bene tra di loro poi esce l'edizione dopo e alla nera non c'è azzecca più niente cioè non serve più a niente non puoi unire niente a nessuna carta ma io non posso continuare a giocare quel mazzo prendo cazzi posso continuare a giocare però probabilmente è il mazzo che è uscito dopo per esempio quando giocavo io è uscito alla nera poi è uscito Dragunity Dragunity era più forte di alla nera non è che ci potessi fare troppo quindi niente quindi si puoi giocare è uno standard ultracostoso esatto è uno standard ma devi cambiare continuamente le tue carte e esce un'espansione come? esce un'espansione ogni? mi sembra la stessa simile a Magico ogni tre mesi dovrebbe essere porca troia non mi ricordo benissimo però il concetto era lo stesso c'è da dire unica politica affascinante è quella delle ristampe quando una carta va a 100 euro la ammazzano di ristampe quindi diciamo che il costo si mantiene basso ma quindi non è costoso Allora è costoso se lo vuoi giocare se vuoi avere il mazzo tier 1 subito quindi se vuoi comprare tutto e subito si è costoso se vuoi essere competitivo quando invece dici per esempio era uscita una carta che faceva effetto ponder quindi guardi le prime tre una in mano e faceva due sotto se non mi ricordo male questa carta qua era uscita stava a 120 euro poi adesso se tu la guardi sta a 1 euro probabilmente boia carta simile cioè quindi il mercato è una merda cioè tipo devi stare attento a vendere immediatamente quando senti un attimino la paura della ristampa il mercato in realtà è pessimo per i venditori ottimo i rivenditori scusami perché i rivenditori quelli di magic diciamo i cartari che hanno le carte e te le provano a rivendere perdono un sacco di i masella per esempio i masella di yugioh non possono esistere esatto ci sono ce n'è uno in italia se non mi ricordo male però non c'è il suo mercato principale è aprire una marea di box e venderti le carte nuove in compenso è fenomenale il discorso economico speculativo che puoi fare con magic te con magic puoi fare il broker fondamentalmente cioè uno dice io investo in cripto io investo in azioni di aziende io investo in magic cioè te con magic puoi vivere soltanto facendo compravendita speculando su carte che alzano di prezzo e tutto il resto su yugioh non puoi praticamente io ho un armadio in questo momento che è così è proprio così questo armadio di magic e allora flexaci qualcosa esatto a caso flexaci qualcosa ti faccio più grosso ti faccio più grosso non ho la vetrina non ho la vetrina dietro quindi in realtà qual è il problema dall'ufficio non ci posso più andare perché ho avuto dei cazzi col covid quindi fin dal 20 sono chiuso e ho tutte le carte qua per fare le spedizioni sono drogo bianco occhi blu se vuoi ti può andare bene quello originale non costa più un cazzo non costa un cazzo questa persona no quello americano sta a 200 dollari quello del in realtà quello che costa di più è quello che non è non è cioè noi siamo affezionati o almeno io che guardo quello è l'artwork del box di Kaiba del mazzo di Kaiba esatto perché questo è quello di Kaiba invece quello che sta di più è quello della leggenda del dago bianco che però non ha l'immagine della carta di Kaiba no c'è il colo lungo tutto in avanti però sta a 200 dollari però ti ho di magic qualche flexata durissima non ce l'hai? eh di flexità durissima non ha dietro vediamo a me piace vedere la gente flex le carte le carte io l'unica cosa se posso flexare le inizio a scalare non so qua c'è il foil un tipo io posso flexare questa cos'è? è la candela di Innistrad dedicata al Delmo va bene non posso mappare questa flexata no 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 dai facci vedere facci vedere questa non vale un cazzo però è unica è bella è bella incredibilmente bella anche perché la wizard non mi ha ancora riconosciuto come streamer quindi ok per me un certo uomo non c'è niente ci arriverai io credo in te spade spade vedo spade ah no sono mistiche c'ho le mistiche sopra boh talia non so cosa ci sia altre talia un sacco di altre talia due ranger capitani bello un milione di talia 14 jace foil vedo ok un paio sotto e ci ho messo una vita a farmi seguire da wizard italia per esempio ho dovuto ogni giorno su twitter fare un post dicendo wizard italia ancora non mi segue e taggavo qualcuno a una certa mi hanno messo il follow si sono rotto il cazzo mi hanno messo il follow no vabbè non sei nessuno su twitter finchè non ti segue robert taylor quando ti segue robert taylor sei considerato un giocatore di match adesso allora inizierò a inizierò a rompere il cazzo anche lui se no c'ho questa se vuoi che è più interessante perchè c'ho le shadow qua dentro bello c'hai le ghost ah ho visto dei drago bianco e blu no c'ho solo quelle che piacciono a me qua dove cazzo sono le shadow che è l'unica pagina decente che ho nella mia carriera c'hai una pagina di shadow foil oh eccole wow solo shadow solo pagina di shadow bellissimo no ce l'ho di splinter twin quella cioè io ho questa pagina qua cosa no fanno vedere mettila davanti alla mettila davanti alla webcam è bellissima proprio mettila grande che si veda bene bene eh cazzo due pagine di splinter twin sono solo dei twin questi ma poi la sbanneranno forse non oggi forse non domani è un capo allora step up your game ho visto un mox sono quelli che davano alle tane al weekend sono i pochi che puoi usare al posto di colire ok prossima prossima fase è riempire il muro di splinter twin di splinter twin guarda che è il futuro è che quella merda costano 6 euro l'una da bannate da bannate da bannate ma prima o poi andranno a 30 sono certo di questa cosa quando la sbanneranno sei ricco hai fatto una che ti compri una casa praticamente sì 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 beh l'idea è quella dammi la pensione splinter twin forse la sbanneranno tra 15 anni se vuoi dire però prima o poi la sbanneranno la carta più costosa che hai adesso e la carta più costosa che hai avuto adesso addietro anche se non ce l'hai qui cioè in generale che possiedi se sei come la gente che le mette io credo al momento un mox bianco alfa no 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 bordo bianco perché alfa e beta in realtà la vetrina c'è ci sono dei black lotus in vetrina però non sono miei sono del mio socio quindi non vale niente come cosa invece dal punto di vista della società il più grosso è un mox bianco al momento se no c'è stato di roba talmente c'è stato un time twister double signet molto grosso che è stato venduto a 10.000 euro dall'artista e da garfield wow quello là è stato venduto sui 10.000 è stata la cosa più grossa penso c'è a dire che il mondo degli islander in questo momento è inaccessibile cioè se tu provi a provi a prendere qualcosa tutto sta altissimo ad averlo bello fai molta fatica non so è davvero un mondo tosto quello tu hai mai visto cioè c'è qualcuno in Italia che possiede una di quelle carte limitate a uno che è tipo world champion 96 allora se non ho capito male girava un art of phoenix simile che non mi ricordo cioè quella là che aveva dato agli invitati al matrimonio ne dovrebbe girare una poi in realtà delle altre no perché la proposal so che c'è stata una voce che gli permette cioè ha girato quella proposal rubata che c'è stato però sono solo voci quindi c'è solo parecchia curiosità in merito cioè quella ce l'ha sempre garfield e la proposal dovevano aver rubato quella di uber penso mi sa che avevano rubato la sua la splendid genesis la splendid genesis c'è 200 copie però ce ne sono qualcuna di queste e ce n'è una sulla fine basta punto penso di grosse forse le city of traitors quando ci sono le prove del foil che dovrebbero essercene 14 di quelle in circolazione più 7 meno 7 stanno solo crescendo di prezzo e costano un milione cioè tipo ho visto un'isola venduta a 6.000 euro quelle di di Ariel Ariel Emiel di Emiel c'è presente la storia di Emiel che gli hanno dedicato anche una carta di jumpstart no non ce l'ho presente Emiel Emiel the blessed è una carta di di jumpstart che è l'unicorno che è dedicata a una persona che si chiama Emiel se non sbaglio che praticamente ha comprato un commander deck e quel commander deck era tutto misprint tutto ma proprio misprint che il dorso era stampato in trasparenza sul davanti bello 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 e c'è solo quello al mondo capito è molto è molto bello quel genere di prodotto e si dice che lui abbia fatto vendendo i vari pezzi di quel mazzo infatti è diventato famoso come Emiel the blessed cioè il benedetto perché l'ha baciato la fortuna e e praticamente lui ha fatto no insomma 250-300.000 dollari vendendo i vari pezzi di quel mazzo e tra cui le cose che costano di più sono le terre che sono effettivamente le carte più richieste perché le terre sono anche strabelle quelle terre lì cerca aspetta guardo se riesco a farla vedere anche live Emiel MTG Lens adesso le trovo adesso sono usciti con un secret layer che hanno rifatto quelle land no ma impazzisce la gente impazzisce sono state vendute veramente a 6.000 7.000 euro eccole non so se si vede i guidi che grande appassionato di se riesco a farle vedere queste ecco il mazzo è tutto così lo vedi dalla live ok si 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 tutto il mazzo è così e queste tipo le terre sono così e sono stupende cioè sono uniche tra l'altro non sono tutte uguali sono tutte misprintate in maniera diversa quindi comunque sono tutte uniche sono meravigliose tipo quest'isola fa conto immagina solo quest'isola 6.000 euro cioè stupendo clamoroso veramente faccio un secret layer così eh? dovremmo facci un secret layer così ma com'è bello appunto svaluti completamente la blessing di quest'uomo secondo me invece è bello rimanga nella leggenda te non la sapevi sta storia? no non la sapevo è bello ti ho scoperto una bella storia poi sì io sono così non faccio le interviste faccio le chiacchierate con i voli pindarici che parti dalle magic e finisci a disprezzare Nietzsche e Kant e e praticamente te hai detto hai mollato Yu-Gi-Oh per passare a magic ma questa cosa com'è successa? cioè nel senso te hai visto magic te ne sei appassionato ti hanno parlato è successo semplicemente che c'era dell'altra gente in negozio dove andavo al tempo che giocava a magic io ho poso le mie Yu-Gi-Oh le ho vendute ho poso le magic fine ho iniziato a giocare iniziando come? ho iniziato nel modo peggiore per iniziare cioè con un mazzo GV GV deck di M15 con fito titano e fito titano fito titano come è bello dire fito titano queste sillabe pesante in realtà ho avuto una fortuna incredibile che c'era quest'altro ragazzo che giocava tantissimo commander e allora ha fatto montare anche a me un commander e devo dire che per iniziare giocare commander è incredibile perché vedi tutte le meccaniche tutte le partite sono lunghissime e puoi giocartela anche se il tuo budget fa schifo e soprattutto ti diverti che non è una cosa da sottovalutare e ti diverti non è per nulla facile in realtà soprattutto quando qualcuno ah no scusa quando qualcuno entra in un ambiente competitivo direttamente non è facile dirgli guarda le partite da magic sono anche cioè sono di due turni e non puoi giocare il tuo drop a 7 perché non è competitivo il tuo drop a 7 è molto particolare questa cosa è difficilissima per fortuna c'è stato il commander da questo punto di vista un commander gli posso schiantare tutte le carte che cazzo mi pare anche che mi piacciono che non sono forti magari qualcosa me la fanno esatto esatto puoi giocare tutto a me piaceva un sacco il demone delle rune per esempio quella 7 che quando entra fa tutta l'ora che carta incredibile il burning rune demon sì sì vabbè anche quello lì che quando attacca opposacca creatura non è male dai due guaccia ah quello 7-7 che però in upkeep devi sacrificare una creatura tu o una cosa simile c'è proprio c'è un commander demoni non mi ricordo chi è il commander che bello solo apostoli voglio giocare 40 apostoli non credo sia un demone il commander credo sia mi sembra o o traximundar sì o sennò ce n'è uno mono nero con un umano come commander però c'è una sinergia con i demoni non so se li sconta non mi ricordo comunque roba del genere per fare il commander demoni c'è un formato dove puoi giocare il mazzo demoni è bello esatto esatto e il problema è che dopo quando hai visto il gioco competitivo io non so te come ragioni ma io sono competitivo sempre quindi quando facciamo la serata commander tra amici io sono competitivo se io posso chiudere scommando chiudo scommando cioè non purtroppo allora anch'io non in commander cioè siccome io non lo reputo un formato serio commander ma no perché non sia complesso è che è fatto apposta per divertirsi secondo me quindi io sono uno di quelli che dice ok al tavolo ci facciamo una nostra banlist praticamente no ma su quello sono d'accordo però il problema è che punto sempre essere competitivo cioè expropriate se devo giocare a un mazzo col blu quella là che tutti i giocatori scegliono se fai un turno extra o prendi un loro permanente la gioco sempre perché se entra e la difendo ho chiuso e non ce la posso fare senza conosco anche tavoli che hanno bannato second rift nonostante sia giusto così tapposette ma non sono tutto giusto da bannare come cazzo e là invece 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 quando è che come nei film no quando è che è scattata la musica romantica se hai illuminato il retro e hai visto shadow allora con shadow che raccontaci mi ha iniziato la storia d'amore ovviamente o la tua fidanzata allora shadow è stato quel mazzo che è uscito subito dopo temur battle rage perché si giocava suicide zoo che che era una versione incredibile con become immense e così via e quando io vedevo questo mazzo che batteva la gente a turno 2 giocava gitaxian giocava straight rate tutte carte incredibili non potevo non montarlo l'hai provato la prima volta e l'ho provato la prima volta in realtà l'ho riuscito a giocare pochissimo in versione suicide perché è arrivata subito la band di gitaxian e poi quando si iniziava a giocare effettivamente la versione grixis che era la versione un po' più tempo io ho detto beh questo mazzo è bellissimo soprattutto perché tutti intorno dicevano no è un mazzo è un mazzo difficilissimo impossibile da giocare allora ho detto va bene la prendo come sfida personale e devo imparare a giocare in stapolenta e hai distrutto tutti ed eccoci qua ed eccoci qua poi da me a parma si giocava si gioca tuttora legacy quindi ho detto ok proviamo a giocarlo in legacy soprattutto perché era uscita una mezza lista che andava a giocare con gitaxian giocava un po' come piaceva a me lì si poteva giocare con le proxy quindi ho proxato i mario avevo comprato le force perché le volevo prendere e ho iniziato a giocarlo come ubi come ubi shadow ho avuto il primo e unico momento traballante col mazzo quando hanno bannato death rise shaman e gitaxian probe che dolore perché hanno toccato otto carte al mio mazzo però nessuna dei due era per colpa mia cioè non era per colpa di shadow è come a me che mi hanno ucciso kahira e firez per colpa di yorion quando io giocavo gruel firez uguale sì 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 e ci rimani malissimo io non so adesso se qualcuno di voi anzi oggi è l'anniversario del bandy moxopal che è stato bannato due anni fa è un minuto di silenzio per qualcosa e io non so quanti di voi giocassero un altro mazzo tipo affinity cirio slantern e vi siete beccati il bandy moxopal perché la gente giocava sto cazzo di ugi occo urza sì io ho pianto giocavano snoco era snoco giusto mi ha fatto bannare tutto sì 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 che lì piuttosto che non bannare urza avevano bannato o astrolabio subito avevano bannato moxopal che dolore è stato malissimo e lì è stata la stessa cosa tant'è che poi ho detto porca misera mi hanno annichilito il mazzo per niente ricordiamoci Deathrite Shaman carta giocata 4 per in vintage quindi in realtà è una carta pazzesca perché è giocata 4 per in vintage e 0 per in pioneer cioè non serve non serve un cazzo eh non è le fetch cioè ce n'è una ma ha funzionato 1.18 è terribile e invece e invece e invece allora il risultato più importante della tua carriera il più importante della mia carriera è solo battere Blasi quando succede è sempre una gioia per me cioè non è sono felice di questa cosa è stato penso sia il risultato è battere Blasi in cui ho battuto una win and in Blasi è stato il giorno un bel giorno quello meglio sto tipo 9 a 3 contro Croquets penso che abbiamo giocato con tu una volta forse due mi sa che siamo 1 a 1 roba civile però è stato molto bello no no a parte il risultato è risultato vero risultato vero effettivamente è un attopotto a un Nebraska da 250 player che era un buon risultatino perché in realtà avevo fatto 6 mesi on fire in cui avevo fatto top a tutti gli eventi possibili avevo fatto top a 2 for season al Nebraska definisci Nebraska per chi non definisci Nebraska for season e tutto il resto per chi non sapesse il circuito cartaceo competitivo allora i formati eternal non so per chi non so quanti di voi magari giochino solo standard in live o comunque guardino solo io a tanti che mi seguono hanno proprio iniziato con arena quindi non diamo per scontato il grosso di questi eventi che non sono supportati dalla wizard sono fatti da organizzatori di eventi secondari per esempio il four season è un evento che viene fatto una volta a stagione e lo fanno a Bologna questo evento è sia modern che legacy però soprattutto è diciamo l'evento grosso legacy italiano il Nebraska era un evento che facevano una volta all'anno il weekend dell'otto più o meno ed era un evento che anche quello modern il sabato legacy la domenica e faceva 250 300 persone i primi ne facevano anche 500 quindi come struttura sono dei GP si può dire come? come struttura sono dei GP come struttura sono dei GP sì sono praticamente ovviamente ridotti dal punto di vista di numeri però la bellezza dell'evento è la stessa secondo me faccio scendere temi è iniziato nel 2014 vero? com'è? è iniziato nel 2014 è nel 2014 ora allora io faccio venire la lacrimuccia ai veri boomer come me la lega de abyss e qui si vola la lega de abyss era una roba ancora madonna la lega de abyss i risultati li scrivevano sull'oracolo ok vabbè momento momento lacrimuccia tu non sai cos'è l'oracolo no 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 io non sai per me è anche il sito della della T1OT io non l'ho mai mai visto mai usato e te non sai cos'è l'oracolo se io dico l'oracolo no è la rivista che usciva di magic il settimanale no il mensile pazzesco l'oracolo le liste le liste non le guardavi su twitter le liste erano sull'oracolo sul de abyss il de abyss era un forum hai 112 anni io ne ho io ne ho 31 giocavo quando ne avevo 12 e quindi madonna io mi ricordo andavo a comprare all'edicola l'oracolo se ci penso mi viene a piangere se te pensa veramente ai tempi mia sembra che io parli come se stessi parlando a mio nipote cioè ai miei tempi te andavi al baretto te giocavi il tuo mazzo e poi quando usciva l'oracolo tu ti va vediamo cosa è successo nel mondo di magic non è che andavi sul telefono a guardare le news a guardare i risultati i tornei non sapevi un cazzo te eri chiuso nel tuo mondo infatti c'era a quei tempi c'era veramente il meta del negozio cioè il meta del negozio era il meta del negozio te non avevi idea di cosa succedeva in giro per il mondo esatto me ne parlava spesso Francesco che lui è giocatore di vecchissima data e mi diceva proprio che per me è una cosa che non esiste in negozio lui spesso vinceva perché portava oat come mazzo e la gente non sapeva cosa fosse e la gente non trovava 4 oat per montare il mazzo addirittura vinceva chi aveva tutte le carte di solito ti faccio un esempio non so se conosci geometra è un ragazzo che ogni tanto stream anche su twitch geometra è un amico mio di piombino alberto castellani che è stato considerato il più forte giocatore di piombino quando si gioiava vintage e quando si gioiava vintage che c'era il meta piombinese vintage non è che si sapeva in giro cos'era e il meta piombinese vintage si gioiava stacks storm tent cioè tutto sandrils io gioiavo food chain goblin che avevo visto sull'oracolo e lui giocava spaccaterre basta cioè non aveva nemmeno un nome per mezzo si chiamava spaccaterre terravoro tabernacoli come se piovessero il coraggio era per noi era considerato tier 0 fine quel mazzo era una merda era ingiocabile nel mondo però per il meta del negozio era devastante era il deck to beat quello si era bellissimo e tutti quando si montava mazzi 9 dicevo voglio montare mazzo 9 montiamo questo mononero shadow e per shadow non la tua shadow l'abilità shadow l'abilità shadow con l'antuko shade i 2-1 ombra e così ti dicevi ma come lo batto lo spaccaterre del castello lo spaccaterre del castello come lo batto poi devi iniziare già in questo modo intorno al meta esatto c'era era più interessante però deck buildare probabilmente era allora era bello il feeling era bello perché te veramente vivevi in una comunità che te dicevi i giocatori erano 30 il meta era quelle 30 persone basta posso farti una domanda da giocatore di arena sì secondo te questa cosa cioè perché io questo qua l'ho sempre ritenuto il punto forte di magic e insomma la comunità quella che la dunanza su arena non c'è il rischio di perderla questa cosa allora ti dico dov'è la differenza perché non lo devi chiedere a me ma lo devi chiedere a qualcun altro di diverso perché io sono un content creator io non giocherei mai ad arena così tanto da solo cioè io la vivo il the gathering perché io ogni volta che apro arena ho la chat che mi guarda giusto io non mi sento solo io sono in una stanza con centinaia di persone che si chiacchiera si ride si scherza capito e lui ha chiuso la chat io questa cosa questa cosa cioè sinceramente io mi rendo tutto che comunque io ci gioco ad arena non live ma molto poco e quando ci gioco non live quando devo testare quando proprio sto lì a contare a mettere per scritto le percentuali dei mazzi per capire cosa portare magari a un mcq o roba del genere e lì non la sento zero lì c'è zero gathering lì diventa proprio gioco online di ranked di ladder vaffanculo questa cosa io penso sia il punto focale per vedere se arena può diventare effettivamente o no il punto forte di magic secondo me perché mi è successo di vedere magari gente che aveva iniziato a giocare con magic arena si ritrovava poi a voler magari provare il cartaceo però vedere che il prezzo era completamente diverso dalle sue aspettative e questo l'ha fermato sfatiamo anche un altro mito perché tutti dicono arena ha ucciso il gathering magic online ha ucciso il gathering il bello di magic è l'adunanza allora non è che quando si gioca a cartaceo in un negozio siamo 60 persone siamo 60 persone che si vogliono bene e si abbracciano cioè i giocatori che non cagano nessuno e la gente che si sta sul cazzo e ha sociale nonostante sia in mezzo alle persone gioca arriva si siede gioca e se ne va c'è sempre stata aspetta ma stiamo iniziando a flammare è la parte più divertente dello streaming no nel senso sfatiamo questa idea fantastica che allora se si gioca a magic dal vivo siamo tutti amici no 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 ovviamente la mia idea è non siamo tutti amici perché ripeto cina biondo mi starà sempre sul cazzo non posso farci niente io su questa cosa no e flame no 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 vabbè l'ho buttata così e no detto questo è normale che se io sei serio? certo che sono serio ma compari anche nei suoi video eh vabbè la parte è perché è un po' frizzantino anche vacca è nelle canzoni di Fabri Fibro ma poi si dissano ma adesso guarda che adesso che appaia ah perché è il game ah ma questo è il rap game ah ok non è un eh sì sì adesso io voglio andare in una live tipo di Jack Torrens e iniziarai a insultare te e dico ah con la testa di te ok 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 stai giocando nel rap game no allora va bene allora ve lo quello va bene no no in realtà stavo dicendo non siamo tutti amici è vero cioè c'è la sociale però di quelle persone io non so voi ma quando quando faccio il torneo il giovedì sera mi fermo sempre a chiacchierare poi e quello fa tanto in realtà o il fare le macchinate per andare a un evento quello quello è bello quello è bello io non vedo l'ora di farmi un GP grosso chiacchierare macchinata si parte parte Akira da Roma viene a prendere Mento Cana poi si va a prendere Cina si raccatta Gole e Berro il pulmino da dieci persone si va a prendere Rizzi gli si dà un bacio e si va via no vabbè si va via e basta è solo il bacio di Rizzi quello minchia Rizzi mi farei fare grosse cose no vabbè un saluto ciao Mattia sei un fratello un amico ciao Mattia un saluto Mattia insomma vabbè nel senso sfatiamo questo mito che comunque ok il gathering ma la gente antipatia sociale c'è sempre stata anche dal vivo e invece 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 se tu potessi cambiare una cosa di magic e per una cosa di magic intendo qualsiasi cosa da una regola da una meccanica da un qualcosa che ha fatto deve fare la wizard cosa vorresti allora riformulo te domani sei l'uomo magic ok immaginiamo l'uomo magic che decide tutto cosa cambi il competitivo in questo momento tutta la formula competitiva so che c'è il covid so che c'è tutto ma datemi delle linee guida per il competitivo voglio cioè io voglio sapere come giocatore come fa il signor tizio x a qualificarsi al pro tour allora posso dire che questo arena l'ha semplificato e su questo non si può dire niente e anche magic online in realtà ha i suoi modi per qualificarsi al pro tour che sono molto simili a quelli di arena non lo metto in dubbio però non può esistere che non ci sia un circuito competitivo vero dietro un gioco simile ma anche tutto il discorso streaming io non capisco come mai abbiano tolto i coverage dei gp io non so se tu li guardavi però quando i coverage portavano magic ad avere più o meno 60.000 visual che erano le stesse di airstone adesso no il primo mcq fecero 140.000 persone e sì anche e beh poi li hanno tolti hanno detto no questo qua è un negativo nel budget via no hanno distrutto dal punto di vista del content hanno distrutto tutto quando hanno iniziato a fare le mpl split con tutti i creator live invece di farne uno anche li hanno distrutto tutto non so secondo me tutto sugli streamer il content creator c'è un grosso buco poi allora ti dico dal punto di vista content creator singolo quando sei nelle grazie della wizard ti trattano anche fin troppo bene no no da quel punto di vista ok è fantastico cioè dal punto di vista i coverage no è vero effettivamente però io dico tutto il discorso che c'è dietro poi anche la storia di pagare i pro player per streamare secondo me è stato un altro buco nell'acqua quello là l'abbassare il al pro tour quando hanno abbassato il prize wall in totale secondo me sono brutti gesti brutte giocate in generale non so penso sia questo il grosso buco che è la wizard al momento poi ovvio se tu guardi il numero di player e dici ok però su arena adesso ci sono 100 x iscritti in più al giorno e 100 giocatori attivi in più ogni giorno ti dico va bene stanno facendo un ottimo lavoro in realtà non gli si può dire niente la wizard da questo punto di vista non sta facendo male e invece del gioco una cosa che cambieresti? del gioco basta modern horizon ti prego basta ecco banneresti modern horizon? no bannerai no ormai c'è va bene però basta non fatemi modern horizon 3 perché se no mi ricambiate il formato i formati che giocherò io me li distruggo ora esce esce double masters 2 vabbè sono quasi double master però è un prodotto di ristampe sono tutte ristampe siamo sicuri? in teoria dovrebbero se è come l'altro double master si quello là è un prodotto incredibile cioè quello là è un prodotto che la gente vuole sbustare i venditori vogliono sbustare la gente che vuole comprare quello che gli manca lo compra quella lì è un bellissimo prodotto secondo me non ho niente da ridire poi ovviamente le mie sono solo idee da counter creator un po' del cazzo e da giocatore un po' del cazzo quindi io non so niente di come si muove effettivamente la loro economia quindi potrei star dicendo solo solo cavolate da questo punto di vista probabilmente loro avranno dei gran positivi al momento in realtà è tutto perfetto il mondo sorride ok ultima domanda cerchiamo di andare un po' più sul frivolo sul cazzato e così in questo momento si è fidanzato no in questo momento no no immaginiamo ti fidanzi a breve è Amurant è Amurant no sono i soldi di Amurant saresti saresti un uomo abbastanza fortunato sicuramente non hai problemi di lavorare stando con Amurant è Upumpa no Upumpa non è così ricco da mantenerti però è molto bello però Upumpa sicuramente ti riempie di affetto e di ti accresce come persona ecco esatto se non sono isolato peraltro con Upumpa avresti già risposto alla domanda che sto per farti con Amurant non lo so ma ho visto che Amurant per ecco questo magari non lo sanno tutti Amurant uno dice genio del marketing dell'imprenditoria no infatti si è comprata dei pezzi della Power 9 comunque così nel senso lasciamo questa cosina i pezzi della Power 9 hai visto quindi puoi scegliere se fidanzati con Amurant o con Mengucci per avere questa cosa devi valutare bene no ma lei lei non giocando a Magic l'ha fatto soltanto per investimento perché è un genio capito perché ha capito anche non conoscendo il mondo di Magic ha capito come funziona l'investimento su Magic e quindi comunque ti immagini te ti fidanzi e il tuo partner ok non conosce Magic zero nulla non ha idea come l'approccio questa cosa cioè vorresti che te sei uno che dice ok non conosce Magic meglio per me così non mi caga il cazzo sta fuori dalle mie cose oppure proveresti a portarcelo dentro allora ho avuto diversi approcci da questo punto di vista essendo il mio lavoro vendere figurine io faccio fatica a tenerti nascosta questa cosa è impossibile per me non nascosta non inserirti esatto non inserirti in un modo o nell'altro ti ci ritrovi a capire cos'è a fare due domande le fanno sempre ho avuto approcci diversi con con la mia ex l'avevo schiaffata davanti al monitor perché lei mi fa voglio provare voglio capire le regole l'ho schiaffata davanti al monitor con me si è sposta e le ho detto ti faccio provare arena e vediamo se il tutorial di Magic Arena funziona questo è stato il mio approccio le ha fatto cagare il gioco con Silvia ha funzionato con la mia ragazza ha funzionato benissimo invece gioca tuttora attivamente a Magic Arena e con lei invece ha fatto schifo con lei ha fatto schifo quindi comunque mi hai risposto praticamente che si è sposta a lei sì sì no assolutamente non mi permetterai mai di dire ah si impara a giocare a Magic no no impara non proponi tu no assolutamente te passivamente lanci input passivi facendo le tue cose e aspetti il feedback passivo lancio input passivi ma perché sono costretto cioè non è che se mi fai la domanda cosa fai nella tua vita mi piacerebbe rispondere stile Barney Stinson dicendo ah non scherzare e basta però in un modo o nell'altro ti ritrovi a sapere che io gioco un gioco di carte per bambini età compresa 8-12 anni e questo è il mio lavoro non è quindi in un modo o nell'altro faranno altre domande in un modo o nell'altro ti dico poi per come mi è successo lo sviluppo vedono che c'è lo streaming magari joinano e guardano un po' e dicono mi fa cagare però la curiosità c'è sempre secondo me mi stai dando dei 12 anni per caso tutti noi siamo dei 12 anni sfigati ragazzi ricordatevi sempre di coccolare il vostro 12 anni sfigato interiore che starà con voi tutta la vita ragazzi starà con voi tutta la vita adesso vi spiego perché tutti noi abbiamo speso 50 euro per delle fetch perché siamo dei bambini va bene siamo dei bambini perché io ho un mazzo finito cosa succede nel cervello di una persona che ha il mazzo finito giocabile può andare l'obiettivo è raggiunto può andarla a giocare c'è il torneo può farlo può vincere tutto lo guarda e fa eppure queste terre le voglio foil ma quanto è stupido comprare il foil e sono io che sono malattissimo di questa cosa perché è bello eppure lo facciamo tutti non c'è verso una gazzaladra cioè devo vedere c'è una luccica mio devo volerlo esatto e scatta nel cervello l'effetto gazzaladra sì 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 il bling deve brillare la roba deve brillare ma sì io penso penso che nessuno di noi riesca a sopprimere il proprio bambino interiore nell'avere queste cose e poi ti ritrovi ti ritrovi a casa e dici ma perché ho poggiato anche sta roba infatti sì l'accumulatore seriale oh Marco comunque dalla morte dei server di Arena è venuto fuori invece un'interessantissima quasi intervista slash chiacchierata quindi io ti ringrazio questo contenuto se mi dai il permesso io lo metterei sull'ottimo YouTube va bene va bene e così posso commentare dicendo questo questo è un content creator non cina biondo questo è un content creator no basta smettila basta questa dissing rap game coglione dovevo farle più spesso queste pagliacciate a me sai cosa dispiace che mi sia saltato il tribale bestie a me piaceva tantissimo quella roba lì purtroppo non ci si trovava con i tempi con gli orari la voglia e tutto però è questo il fatto comunque la morte del tribale bestie ha dato la possibilità alla nascita improvvisata di queste cose a caso perché magari avremmo dovuto tenerla per il tribale ma invece e chiudiamo questa cosa rispondendo Iro faresti un podcast con me del Mono Alex nessuno vuole fare niente con te ok soltanto farsi consigliare i vini quello seguite marchino su tutte le piattaforme che possibili su youtube su instagram su twitch su holyfans e niente lo potete trovare a giocare a trovare a giocare di shadow tutti i giorni no quando a casa quasi quasi tutti i giorni va bene io ti ringrazio per avermi dato questo spazio per quanto tu non lo volessi fare ma è perché l'ho voluto nel senso non era previsto però dal momento che c'eri si è fatto grazie grazie marchino chat fatemi uno shout out e ora andiamo a vedere se Arena ha ripartito grazie mille e buon gioco allora grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti